I sindacati di categoria della sanità, CGL, CISL, Weir, Nursing e RSU dell'ASL lo avevano promesso alcune settimane fa nel corso di una conferenza stampa convocata per lanciare il grido di dolore sulla grave situazione in cui versa la sanità nuorese tra carenze di personale, servizi che non funzionano, strutture inadeguate. È un futuro tutto da scrivere alla luce della riforma dell'ASL, della riorganizzazione della rete ospedaliera. Se non ci saranno risposte da parte della Regione e dell'Azienda per la tutela della salute, i sindacati siano detti pronti alla mobilitazione e adattuare tutte le forme di lotta previste dalla legge. Inizia pertanto domani a nuoro la mobilitazione dei sindacati con la convocazione alle 9 di un'assemblea del personale e l'effettuazione di un sit-in nella hall dell'ospedale San Francesco a partire dalle 11. In una nota firmata alcuni giorni fa dai segretari territoriali dei sindacati si sottolinea come nonostante le numerose sollicitazioni si sia ancora in attesa di una convocazione da parte del direttore generale dell'ATS al fine di analizzare in termini corretti e propositivi i gravissimi problemi che affliggono la sanità nuorese. Ne prendiamo atto con ammarezza e disappunto, scrivono i sindacati convinti che le questioni, anche le più difficili e complesse, si possano e si debbano risolvere col dialogo e il confronto. Tra le note dolenti della sanità nuorese, sottolineano i sindacati la carenza di organico che interessa tutti i reparti degli ospedali San Francesco e Zonchello di Nuoro e il San Camilo di Sorgono, senza dimenticare le carenze che riguardano l'assistenza integrata domiciliare sul territorio. Nella sanità nuorese mancano infermieri, osse, tecnici di laboratorio, di radiologia, fisioterapisti. Per questo i sindacati chiedono l'immediato sblocco delle assunzioni da parte dell'assessorato alla sanità e la richiesta all'ATS dell'assunzione a tempo indeterminato dei vincitori dei concorsi per infermieri e osse.